Malo, raffica di furti in paese sulla vicenda indagano i carabinieri. I malviventi hanno rubato arnesi e galline, prese di mira alcune abitazioni della zona e un vivaio. Potrebbe trattarsi della stessa banda che, non molto tempo fa, aveva svuotato una rimessa e si era cibata di un gallo cotto su una frigitrice in aperta campagna.